Marketing in pillole per imprenditori e creators. Ne parliamo con Noemi Taccarelli. Cos'è il tone of voice? La caratterizzazione del brand si trasmette anche attraverso un tono peculiare. Un tono immediato, riconoscibile e caratteristico della personalità o del business è indispensabile per attrarre e fidelizzare il proprio pubblico. Lo potremmo definire lo stile, la personalità e il modo di porsi con i propri interlocutori. Esattamente come accade per le persone, le aziende si riconoscono per il modo in cui si esprimono. Per le parole utilizzate e per il modo in cui affrontano gli argomenti. Utilizzare un corretto tone of voice fa percepire l'azienda stessa come una realtà vicina, con la quale si può comunicare senza troppe barriere e che riesce a parlare in modo da distinguersi dai competitor o dalle altre realtà dello stesso mercato. Bisogna cominciare dalla storia dell'azienda o del brand e analizzarla sotto tutti gli aspetti principali, guardarla come forse un racconto, soprattutto in epoca di storytelling digitale. Sapere cosa abbiamo da dire se all'interno di questo sistema di simboli c'è qualcosa che interessa di più o di meno ai nostri interlocutori. Sapere chi sei, infine, significa non solo sapere cosa puoi o non puoi dire, ma anche trovare il modo di farlo senza calpestare le parole e gli argomenti usati dalla concorrenza. Se vuoi un aumento della differenziante, eccolo nel linguaggio. Come fare per approfondire le tematiche e contattarti? Io sono Noemi Taccarelli, CEO dell'agenzia di Growth Hacking Blank Growth Agency. Sicuramente mi potete trovare sui social come Blank Growth Agency, potete iscrivervi al gruppo di discussione Growth Marketing Forum italiano che trovate su Facebook e dopodiché potete anche accedere al nostro sito che è www.blankgrowth.agency.